Alfonso, siamo ripiombati nella zona rossa con un periodo già critico economicamente, credo che la criticità aumenta. Sì, però Draghi ha detto che ci farà spostare le tasse, visto che siamo chiusi, lui le tasse le vuole comunque, però ce le sposta di 60 giorni. Una bella trovata. Lo stai dicendo con ironia o perché è una buona soluzione? La mascherina la sconde tutta la mia ironia, ma più che la faccia sorridente o la faccia incazzata. Perché chiaramente è proprio un territorio in ginocchio e in questo periodo con la chiusura di Pasqua lo sarà ancora di più? Un padre di famiglia avrebbe lasciato tranquilla la gente che non può praticamente incassare, è chiuso e quindi non può produrre. Abbiamo anche dei danni notevoli perché c'è tanta roba comprata, che è roba del periodo, della stagione di Pasqua, che non potremo rivendere sicuramente dopo. E saranno dei danni seri che dovremo raccogliere i cocci alla fine di questa stagione. E un padre di famiglia avrebbe dovuto darci non un contentino, ma una mano. Invece vedo veramente che c'è una distanza eccessiva tra quello che praticamente stiamo vivendo e quello che realmente sta accadendo. Però dobbiamo anche dire che sono aumentati i casi di Covid in Calabria e anche nella nostra città. Ci chiudano signora, io preferisco più le cose certe. Io sto chiuso perché è giusto star così, però così come tante altre categorie protette anche noi abbiamo il diritto di essere viste come situazioni vere, certe, che per anni abbiamo versato i contributi, abbiamo pagato le tasse, abbiamo dato allo Stato un sostegno vero, valido, certo. Oggi è la prima volta forse che il commercio, il terziario, il turismo ha una flessione dovuta a questa brutta malattia che la ritengo il principio di qualsiasi discussione si va ad affrontare. Però è anche vero che si muore non solo di Covid, si muore anche di fame, si muore anche di... La gente si suicida perché è in difficoltà economiche, si finisce... Vedo tanti simposi sulla possibilità di finire nelle mani degli usurai, ma se questo è l'aiuto che lo Stato dà è come se ci spingesse verso nefaste situazioni e condizioni. Comunque c'è l'asporto? Sì, lei immagini che l'asporto vedente copre una minima parte, io dico che praticamente bisogna sicuramente accontentarsi, ma lei si mette nelle panni dei miei dipendenti, che rifiniscono di nuovo in Cassa Integrazione, a prendere meno del 50% di quello che la loro busta paga, si mette nella mia testa, ho un'azienda che ha comprato per Pasqua e ha messo da parte, come tante altre, come lamentavano gli stagionali dello sci, della montagna. Noi questo è un problema che abbiamo dall'inizio della pandemia. Continuo a ripetere, ci sarebbe voluta una parola chiave, che è quella dell'aiuto vero dello Stato, che purtroppo rende tutti quanti noi privi del sostegno dovuto per poter attraversare questo momentaggio. Grazie.